Le grandi profezie Le grandi profezie sul futuro dell'umanità Amadeus Voldben a cura di V.B. Mediterranea Ramatis Il vostro mondo è popolato di esseri nati nella povertà e ignoranza che benedicono, realizzano responsi, sono esorcisti e pittoreschi guaritori però lasciano una traccia di bontà nel lavoro sacrificale affinché i loro fratelli in difficoltà prendano l'esempio Ora, la vicina di buona volontà lascia il lavoro per togliere dall'imbarazzo il piccolo sofferente Ora, la nera grassa buona, molto impegnata col suo bracere dove bruciano le erbe salvatrici pulisce l'aura dell'irritato disattento e scoraggiato nello spirito Ora, la missionaria cristiana, di fronte al triste e disperato riesce, dopo molto sforzo, a fargli passare l'idea del suicidio con la predizione di un futuro più gioioso nel cielo Dio, che fa gerbogliare il giglio nei pantani e i fiori al lato delle fragili rovine Vi invia anche il consiglio e la direzione spirituale per bocca dei poveri, ignoranti e persino degli impuri